Si è svolto questa mattina, nella cornice della Sala dei Baroni del Maschio Angioino, il convegno dedicato al tema dell'informazione libera con i giovani giornalisti del domani, protagonisti della Summer School, facente parte del progetto La Scuola fa notizia, realizzato a cura di dire giovani, patrocinato dal Comune di Napoli ed approvato dalla Commissione Scuola. Il confronto ha toccato anche l'argomento della deontologia in rapporto alle nuove frontiere della comunicazione, che ha permesso agli altri giornalisti più o meno giovani di utilizzare la giornata come corso di formazione professionale continua. Presenti il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Ottavi Lucarelli, il presidente della Commissione Scuola Luigi Felaco, il direttore dell'Agenzia di Stampa Dire Nicola Perrone, il redattore del Tg3 Romolo Sticchi e Amalia De Simone, reporter del Corriere.it. Numerosi gli argomenti trattati ed ampia la partecipazione degli studenti ed emino giovani, che hanno animato il dibattito ponendo questioni riguardanti temi più disparati in ambito giornalistico, segno che, come il sindaco e tutti i relatori hanno affermato, la comunicazione rappresenta un punto di approdo di tutte le generazioni e che, nonostante i problemi legati alla libertà di stampa ed alla deontologia, il mestiere del giornalista è ancora un sogno nel cassetto di tanti aspiranti tali. Autonomia ed indipendenza, questi i fattori da ricercare per fare del buon giornalismo. Sondaggismo e spettacolarizzazione del dolore risultano invece i punti deboli da evitare per fornire sempre la giusta informazione.